Oggi una cascata di potos Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te Baciata dal sole faccio questo video È mattina, molto presto, mi sono svegliata e ho creato una cascata di potos Ispirata dalle mie piante che ho proprio di fronte a me Guardate, ve le faccio vedere Voilà, guardate che belle le mie piantine Mi sono fatta prendere la mano e ho voluto usare tantissimi colori che non uso spesso In primis degli acquerelli, le penne che uso spesso, poi dei pennarelli metallizzati Ma soprattutto lo sfondo, ho fatto uno sfondo metallizzato Non si addice molto alla mia arte che risulta sempre un pochettino sottotono Nel senso che mi tengo sempre un tono indietro, non sottotono che mi sto autoflagellando Ma sottotono nel senso che io mi mantengo sempre un po' più bassa Però questa volta ho voluto usare e il risultato mi piace, mi piace Molto grafico, molto di impatto Vi invito tutti a seguirmi su Instagram, pennello bianco su fondo rosso Arte per te vi aspetto E su Facebook dove è cominciato alla grande il corso di disegno Quindi se vorrete venire a sbirciare io vi aspetto Per adesso le iscrizioni sono chiuse Però può darsi che più in là aprirò ancora qualche posto Quindi state attenti e pronti a accedere al momento giusto Seguitemi anche sui miei altri canali Ombretta, il mio canale di Lifestyle E 2Q1K, il canale di cucina che ho insieme a Gabriele E adesso andiamo a creare la nostra cascata di Potos Ed ecco l'occorrente per creare il nostro Potos acquarello e penna Come palette di acquarelli userò la Winsor & Newton Una palette di Ferrari o non più in produzione E una palette Primacolor con colori tropicali adatta al nostro lavoro Userò delle penne permanenti con inchiostracchina Le Micron e le Sedler in varie punte Pennelli tanti, vari, ve li dirò via via nel corso del lavoro Come carta userò la Fabriano 5 Una buonissima carta per acquarelli con cotone al 50% Cominciamo subito Come prima cosa con una 2B Imbastisco la mia trama di foglie di Potos Vado molto leggera con la matita E cerco di posizionare il soggetto lì dove voglio che stia Non è detto che poi non cambi la posizione lungo la durata del mio disegno Ecco come vedete Do quelli che sono gli andamenti Le piegature delle foglie E piano piano Delimito quello che è il campo che occuperò con il colore Quindi definisco l'andamento delle striature delle foglie Perché ho deciso di definire meglio questo particolare con le penne Quindi devo creare un andamento armonico delle venature Che crei gioco di movimento E non disturbi e non diventi troppo pesante Quindi lo provo prima a matita E scelgo la penna adatta Comincio con una 05 e andamento molto tremulo Senza calcare troppo A definire i contorni del mio disegno Come vedete specialmente gli steli li faccio in maniera molto molto tremula Riprendo tutti i contorni E ripasso Naturalmente io quando faccio questo lavoro Cambio sempre quello che avevo fatto a matita Perché non so perché io lavoro così Prima faccio in un modo e poi disfo Ripasso le venature principali Sempre con la 05 Quindi con un tratto più grassottello Faccio asciugare completamente il tratto della penna Quindi cancello la traccia a matita Una volta cancellata la traccia a matita Proseguo bagnato su bagnato Quindi bagno tutta la foglia che voglio disegnare E lavoro le foglie una ad una Perché tra una stratificazione e l'altra Così do il tempo di asciugare l'acquerello E con un melange di verdi Coloro tutta la foglia Non sto particolarmente attenta ad ombre e luci in questo momento Mi faccio più che altro guidare dal mio istinto figurativo E vado a riempire lasciando sempre molto in trasparenza Tutta la foglia Uso del verde e un po' di rosso Come avete voluto vedere Faccio così con le foglie Come vedete lavoro a foglie lontane l'una dalle altre Perché lavorando su bagnato su bagnato Faccio in modo che l'acqua tiri un pochino Se lavorassi con foglie vicine L'acquerello di una foglia Trasmigrerebbe sulla foglia dell'altra Invece così faccio in modo che ogni pozzanghera Rimanga isolata E che le foglie asciughino singolarmente Vado a riempirle con colori via via diversi E cerco di differenziare anche l'andamento di emissione Dell'acquerello di foglia in foglia Ne farò qualcuna in cui si vede di più la trasparenza del bianco Qualcuna più coperta Seconda che sia in primo o in secondo piano Quella in secondo piano come vedete La comincio con un fondo direttamente più scuro In modo tale da andare subito nel fondo del foglio E via via Vedete riempio proprio tutte le foglie Così a macchia Le foglie in secondo piano come vedete Le carico di più di colore Proprio per farle sprofondare Nella profondità Scusate il gioco di parole Mentre continuo adesso intensifico i verdi un po' Su tutte le foglie Ed è a questo punto che comincio ad immettere anche qualche venatura Sempre all'acquerello E sempre in maniera molto leggera Quando poi Quindi passo la venatura E poi ci ripasso sopra il colore a pozzangher In modo che venga un po' mascherato Ripasso sulle righe Appenna con Un acquerello più intenso Faccio asciugare E poi in alcune foglie Coloro tutto il settore più scuro In altre faccio delle righine Insomma coloro un po' a fantasia E in maniera del tutto libera Quindi non figurativamente simile A quello che è il potos originale Tutte le mie foglioline Danno anche delle movimentazioni cromatiche Cosa significa Andrò a inserire dell'azzurro Andrò a inserire altri colori Andrò a inserire come in questo caso Delle venature Più sottili Sempre ad acquerello Ma La cosa particolare È che non tratterò tutte le foglie Nel medesimo modo Quindi creerò una fantasia Nell'immissione Dell'acquerellatura In alcune zone sarà compatta Come in questo momento In altre sarà rigata Come in quest'altro momento Insomma Sbizzarrite la fantasia Questo darà movimento Alla vostra opera E anche unicità Continua a infittire Di particolareggiature Che poi andranno a fondersi Con l'inchiostro Perché l'acquerello Non rimarrà in purezza Quindi sto dando Anche alle particolareggiature All'acquerello Un non so che Di grafico Di molto lineare E non Di sognato E espanso Come può essere Un acquerello normale Dove spandi le macchie A pozzanghera Qui mi sto mantenendo Molto sul segno Come protagonista Continua a particolareggiare Rigando quella Finché non reputerò Completa L'immissione Dell'acquerello Differenzio anche La cromia delle righe Ne faccio più chiare Più scure Proprio do movimento A tutta l'opera Adesso con una penna Vado a segnare L'interno delle foglie In questo momento Sto usando La sensor di stabilo Che non è una penna Permanente È una penna Solubile in acqua E poi ripasso Un pennellino Bagnato Per segnare fortemente Le righe nere Su questa foglia Che voglio Crei pesantezza Sulla composizione Quindi Ripasso Su tutte le righe E poi la ripasso Tutta col pennellino Proprio per creare Queste ombreggiature Vedete come spando La penna stessa Bene Adesso Prendo Prendo una micron Questa non è Solubile in acqua Questa è una 01 Anzi Questa è una 0,05 Quindi una punta Molto sottile E vado a riempire Di micro righe Tutti i settori All'interno Della foglia Tra una venatura Grossa E l'altra Quindi Segno le venature Grandi Con una 0,05 E poi Vado in mezzo A queste Con una 0,05 In modo Che si segnino Di nero Ma che non Vadano Ad eliminare Il substrato Colorato Con l'acquarello Quindi che il colore Continui a vedersi Riempio con questa Tutte le foglie Al suo interno Quindi Quando vedete Il tratto grosso È una 0,05 Quando vedete Il tratto sottile È una 0,05 E in alcuni punti Anche una 0,01 Per le parti In evidenza Sto ripassando Lì dove serve Una maggiore visione Anche una 0,07 Quindi per le venature Più grosse Comunque Voi guardate All'interno Della vostra Composizione Qual è la penna Che meglio Faccia spiccare La vostra emissione Di acquarello Perché la scelta Della penna Dipende dal bilanciamento Che volete dare Tra il colore E il nero Io qui In questo disegno Ho usato Una 0,05 Una 0,7 Per i contorni E una 0,05 Una 0,01 Per gli interni Delle foglie Per le venature interne E questa è La vera velocità Di crociera Nell'immissione Della riga Voi vedete Sempre tutto Molto velocizzato Così capite Anche la velocità Di tratto Anche così Su bianco È bellissimo Però Voglio dare Un fondo caldo Voglio Riempirlo Con un colore In complementarità In questo caso Io vado Di rosso E vado Naturalmente Con un rosso Imbastardito Naturalmente Con il rame E che sia Metallizzato In modo proprio Che il metallico Esca fuori dal foglio E lasci Stagliato sul fondo Il ramage Di potos Lo uso Bagnato Su asciutto E riempio Proprio Tutta la Campitura Da prima In maniera Un po' Più piatta Poi Invece In un secondo Momento Dopo aver Steso Tutto il colore Inserisco Anche Delle venature Di altri Rossi Quindi Un rosso Più ramato E del rame Vero e proprio Giusto per dare Movimento Al fondo Che comunque Già il movimento Lo ha Perché tutti i colori Perlati Nascondono Al proprio interno Il movimento Della perlescenza Vedete Qui sto aggiungendo Delle striature Con quel rosso Ramato Che inizio Più fit E poi Apro E diramo Su tutta La Campitura Al centro Do Un melange Dei due colori Del rosso Più Borgogna E di quello Ramato Insieme Li unisco Perché al centro La composizione Più fitta Quindi La slancio Ulteriormente Con una Con un calore Di fondo Che sia Ancora più Forte Mi raccomando Fate in modo Quando fate Questo passaggio Che il soggetto Principale Sia del tutto Asciutto Se no Il rosso Entrerà Nella composizione Delle foglie Adesso Metto Un po' Di rame Puro Sulla Composizione Giusto Appunto Per dare Ancora Calore E per riprendere La componente Calda Del giallo Contenuto Nel verde Delle foglie Ora Con Il rosso Faccio Qualche venatura Sulle foglie Giusto Per riprendere Il tono Dello sfondo E poi Con L'oro Vedrete Ecco Qui Ripasso Qualche altra Venatura Vedete Per Ingentilire La composizione E adesso Con la penna Nera Rifiro I bordi Perché voglio Dare proprio Un settore Grafico A A Questa Composizione Dopo Questo Ripasso Il pennarello Dorato Per Incorniciare Bene La composizione Quindi Firmo Però Mi accorgo Che ancora Non sono Del tutto Soddisfatta Quindi Decido Di dare Ulteriore Profondità Alla Composizione Aggiungendo Delle Ombre Con Un terra Ombra Naturale Do Solo La passata Di scuro Lì dove C'è La sovrapposizione Tra le foglie E voilà E sì Ora è molto più aggettante Finito E allora Pollice in su E condivisione Se il video vi è piaciuto E noi Ci vediamo dopo le foto Ciao 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 Visto che bello Il nostro disegno Guardate qui Eccolo qui Accanto a me Nella sua Bene Guardate Guardate La metallizzazione Dell'acquarello Io lo riesco Eccolo qui Bene Se questo video vi è piaciuto Pollice in su Condivisione Aiutate I contenuti Che ritenete validi Ad andare avanti Sul web Non fateci Soccombere Sotto le valanghe Di Tresciume Mi raccomando Aiutate i contenuti Culturali Perché noi ci lamentiamo Sempre che questo mondo Sta andando alla deriva Ma molto spesso Abbiamo la possibilità Di dare la sferzata giusta E non ne approfittiamo Quindi cliccate Quel mi piace E quella condivisione A voi non costa niente E aiuterete il web Ad avere contenuti Puliti Bene Grazie per essere stati con me Anche oggi Vi mando un enorme bacio E ci vediamo Sempre qui Al prossimo video Da Ombretta Ed arte per te Tutto Ciao Alla prossima volta Ciao Ciao